si spappi si è strappato è rimasto e gli hanno dovuto fare due siringhe per sbloccarlo va avanti è così che si bravo hai visto come si prova la gomma dietro così va così si prova la gomma dietro se è pompata giusta è giusta perfetto e come mi diceva Bosic 0,37 e 0,27 davanti è la tasca verticale a posto prego a posto posto manutenzione scorpa effettuata manutenzione caino sempre tutti non ormai vuoi nuovi si si nuovissimi cosa c'è? è quello che non fanno vieni 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 prima di fare il corso dentro qua si parla visto quanto ti prendono i segni no ma non vengono qua quanto tu ti prendi ha già parlato con Diego ha già parlato eh diglielo al tuo capo cazzo vuoi da me non devi dirlo quanto parcheggi avete qua paghi sono un parcheggio ma non sono io il capo è Diego non è colui devi venire qua oggi a parlare insieme non so niente lo collochiamo io il Diego